Censiri tutti i negozi sfitti del centro storico di Sulmona su impulso dell'assessore comunale a commercio Cristela Civita. L'operazione era nell'area già da un po' di tempo, visto che perdurare delle condizioni di incurio e degrado in diverse delle attività che hanno abbassato la sera cinesca. Il rapporto della polizia municipale è arrivato a Palazzo San Francesco e per il momento di dolari dei negozi sfitti arriverà solo l'invito di provvedere a ripristinare le condizioni di decoro. Non escluso però che, come anticipato mesi fa da Onda Tg, il sindaco Anna Maria Casini potrebbe adottare un'ordinanza contro il degrado dei negozi sfitti che prevede sanzioni per i trasgressori. Su mia richiesta il comandante e i vigili urbani tutti, che ringrazio, hanno predisposto un rapporto dettagliato sulle condizioni estetiche e igieniche delle vetrine dei negozi chiusi sul corso video e centro storico, a sapere l'assessore La Civita che riprende. Partiranno inviti ad ogni proprietario affinché rendano igienicamente salubri, esteticamente gradevoli le vetrine stesse. Sto facendo comunque predisporre un'ordinanza da far firmare a sindaco con previsione di sanzione nel caso in cui l'invito non dovesse essere raccolto. Da Porta Napoli a Piazza Carlo Tresca si contano almeno 39 negozi sfitti, 28 solo nella zona sud del corso. Un report amaro che ha spinto gli amministratori di Palazzo San Francesco a un intervento più incisivo, ma ora ci vorrebbero anche dei segnali di inversione di tendenza a fronte delle chiusure delle attività commerciali che purtroppo continuano ad aumentare.